Si allarga l'inchiesta della procura di Pescara su presunti appalti truccati nella gestione dei servizi psichiatrici extra ospedalieri della ASL di Pescara. Ieri infatti è stato notificato un avviso di garanzia anche al manager della ASL, Vincenzo Ciamponi, che fa seguito agli arresti che c'erano stati mercoledì scorso quando finirono in manette i due responsabili della cooperativa La Rondine, Luigia Dolce e Domenico Mattucci, ed il direttore del Dipartimento Salute Mentale, il dottor Sabatino Trotta, che qualche ora dopo si tolse la vita nel carcere di Vasto. L'avviso di garanzia per corruzione notificato a Ciamponi sarebbe un atto necessario a consentire lo svolgimento dell'incidente probatorio sul materiale informatico in possesso della procura pescarese, che presto sarà oggetto di perizia. Ciamponi aveva firmato l'aggiudicazione della gara d'appalto non prima di aver espresso delle perplessità riportate nell'ordinanza delle GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio. La ASL però precisa in una nota che la sottoscrizione del contratto con la cooperativa La Rondine è avvenuta unicamente a seguito dell'istruttoria condotta e condivisa dagli uffici competenti e previa consultazione del legale di fiducia della ASL. L'inchiesta però potrebbe non solo avere risvolto in campo sanitario ma anche politico. Trotta, oltre che psichiatra, era infatti esponente di Fratelli d'Italia già candidato alle scorse regionali e come tale aveva rapporti con l'entourage del presidente Marsilio, che ieri è stato chiamato a rendere chiarimenti ai magistrati in qualità di testimone. Marsilio si è intrattenuto un'ora e mezza con i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta ed ha ribadito la correttezza dei suoi comportamenti e di quelli dell'ente che rappresenta. L'impressione è che i magistrati vogliano scavare oltre la superficie del presunto intreccio corruttivo, che sarebbe legato all'appalto da circa 11 milioni di euro per i servizi psichiatrici extra ospedalieri, andando a verificare anche eventuali episodi corruttivi e connessioni con il versante politico frequentato da Trotta.